l'ultimo tavolo, quindi io se siete d'accordo lascio la parola a Valentina Galloni, che conoscete tutti, però insomma ci tengo la referente di Sistema Museale Regionale del Servizio Patrimonio e Culturale delle Regioni Emilia-Romagna, insomma per le conclusioni di questa giornata. Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte, niente, a me appunto come ha detto Francesca aspettano le conclusioni di questa densa e interessantissima giornata. Come abbiamo detto, si colloca nella formazione riguardante il terzo ambito dei look sulla parte dei rapporti con il territorio e come abbiamo detto è una parte molto nuova, nel senso che è la parte fondamentalmente che è stata inserita più nuova rispetto agli standard bassati. perché? Perché sostanzialmente è sempre più strategico, diciamo, una gestione integrata del patrimonio culturale in grado di stimolare una governance partecipata con le realtà territoriali e con i cittadini e come sappiamo la convenzione anche di Faro, la ratifica della convenzione di Faro va in questa direzione. Quindi l'istituzione museale non si colloca più in una dimensione astratta ma in un sistema di relazioni con gli stakeholder del territorio e ha un forte impatto sulle dinamiche di sviluppo locali. È proprio per questo che il sistema museale ha la vocazione, cioè proprio l'intenzione di supportare sempre di più le realtà della nostra rete a mettersi insieme, a sistematizzarsi per qualificarsi maggiormente, per valorizzare i rapporti col territorio, per razionalizzare le risorse umane finanziarie e appunto per scambiare le buone pratiche. Noi come sapete, appunto questo è la nostra bibbia, i livelli uniformi di qualità e prevedono come standard minimo l'individuazione degli stakeholder e i possibili strumenti di dialogo inseriti nei documenti di programma delle istituzioni. Quindi proprio nell'ottica di questo abbiamo voluto organizzare questa giornata e che speriamo che sia davvero utile per voi. Abbiamo sentito darci da BAM, che ringrazia davvero i riferimenti teorici, abbiamo sentito delle esperienze secondo me interessantissime a livello italiano, il MUBA di Milano che ha spiegato il rapporto con le imprese e ha fatto vedere come si possa fare una coprogettazione proprio su un ambito davvero innovativo che è quello della sostenibilità ambientale. Giovanna Rocchi dell'istituzione Musei del Mare che ci ha mostrato come coprogettare con realtà sociali del territorio e come lavorare appunto con persone a rischio di esclusione e cercando di coinvolgere nuovi pubblici ma cercando di lavorare proprio per avviare una relazione vera con questi pubblici, ascoltandoli e cercando di andargli incontro. Quindi abbiamo sentito la richiesta di semplicità e di partecipazione che chiedono questi pubblici e quanto loro effettivamente attraverso anche nuovi linguaggi abbiano cercato di andargli incontro. Abbiamo sentito Chiara Pelliciari con questa interessantissima esperienza di museo che diventa scuola che si fa luogo per i ragazzi di formazione e come appunto questi progetti possano essere generativi di relazioni e anche di competenze trasversali per questi ragazzi. A me ricorda molto anche il nostro progetto di Io amo i beni culturali e della coprogettazione che vede insomma perché c'è ancora tra scuola e museo. Poi abbiamo sentito Marco Bruni del Comune di Comacchio, abbiamo visto come come questo, come sia anche diciamo complesso e articolato coprogettare con gli stakeholder legati al turismo, si è parlato di percorso partecipato anche in questo caso, di formazione, di sinergia con gli attori del territorio che operano a livello turistico per progettare assieme, si è parlato di turismo esperienziale, tur in barca, percorsi in bici, laboratori di riscoperta di antichi mestieri, quindi proprio di creare una rete anche a livello interregionale per creare un futuro distretto culturale proprio come motore economico del territorio, quindi un'esperienza davvero interessante. Questi cosa avevano come comune denominatore fondamentalmente? La coprogettazione, coprogettazione che è un percorso complesso perché richiede riconoscimento e rispetto delle specificità proprie di ogni istituzione, un lavoro di continua mediazione, implica la volontà di assumere un progetto comune ed essere disponibili a confrontarsi rispetto a modalità operative, cercando di integrare in un insieme coerente saperi, competenze e strategie. Quindi davvero un lavoro che è interessantissimo perché arricchisce davvero tutti i protagonisti. Nel pomeriggio abbiamo avuto questa interessantissima esperienza di tavoli, io ne ho girati alcuni e devo dire che come immaginavo avete effettivamente, siete musei legatissimi al territorio, quindi gli stakeholder li conoscete. Quello che noi abbiamo bisogno di fare con voi è un, credo, un passaggio ulteriore, un passaggio di strutturare maggiormente questo lavoro che si fa con gli stakeholder e sistematizzarlo. Perché, sempre tornando alla nostra Bibbia, l'obiettivo di miglioramento in realtà sarebbe addirittura quello di verificare con gli stakeholder l'efficacia e l'impatto delle attività svolte sotto il profilo delle politiche culturali, economiche e sociali tramite report, iniziative pubbliche di condivisione, eccetera. Quindi, in realtà, quello che si vorrebbe arrivare a fare è proprio un coinvolgimento, quello che è stato chiamato stamattina lo stakeholder engagement da parte vostra di questi stakeholder per programmare la loro partecipazione e anche esplicitarne i risultati. Proprio per questo stiamo lavorando con anche il BAM a un modello possibile di bilancio sociale in cui, diciamo, voi possiate declinarlo a seconda delle vostre specificità ed esigenze, ma l'idea è proprio di sensibilizzare i musei alla rendicontazione sociale attraverso appunto queste attività di formazione. Tutto perché proprio attraverso la rendicontazione anche di questi progetti si può misurare il cambiamento che è stato prodotto dalle azioni che fate con questi stakeholder. E proprio questo può trasformarsi in una politica di miglioramento che è quello che, insomma, a cui noi ambiamo obiettivamente. Concludo questa giornata appunto perché siamo stati, siete stati già veramente molto, insomma, molto coinvolti anche voi. Ringraziando il BAM che sono questi nostri bravissimi compagni di strada per la loro professionalità e il loro entusiasmo. Ringrazio le mie colleghe del sistema museale, cito le storiche colleghe Beatrice Orsini, Barbara Fucci, Gabriella Sino e Silvia Ferrari, perché comunque noi siamo sempre a vostra disposizione, perché ci piace se ci scrivete alla mail del sistema, se ci date dei consigli, perché anche noi in realtà vogliamo essere in un processo di miglioramento per voi. E vi invitiamo anche a iscrivervi nel nostro gruppo Facebook che è appositamente creato per dialogare con voi. Vi ringrazio tutti e tutti per, naturalmente, per seguirci con grande entusiasmo e quindi, insomma, alla prossima. Speriamo di organizzare presto qualcos'altro. Non so se devo lasciare la parola a Francesca per la chiusura oppure ci salutiamo qua. No, io direi solo se c'è qualche domanda da parte dei partecipanti, l'accogliamo, altrimenti anche noi ci associamo a saluti e ringraziamenti. Fateci sapere voi, insomma. No, li abbiamo storditi, benissimo, dopo quattro ore, capisco, lo capisco, scusate. In realtà avrei una domanda per Valentina che saluto, che da anni ormai è diventato quasi. Mi ricordo l'appuntamento che c'è stato sui tavoli, i famosi tavoli territoriali e i tavoli tematici, se il discorso verrà proseguito. Cioè, in realtà, questi sono, diciamo, il nostro modo per proseguire quei tavoli, nel senso che ci avete chiesto di affrontare soprattutto formazione e tavoli di confronto. Già oggi, mettendovi insieme a livello territoriale, volevamo comunque cominciare questo discorso dei tavoli territoriali. Tavoli tematici ne abbiamo iniziati, stiamo lavorando sull'accessibilità, stiamo lavorando sulla digitalizzazione e vi invito naturalmente a segnalare, se non vi arrivano le nostre notizie di cose che stiamo facendo, abbiamo pensato che alla fine la cosa migliore, però qui siamo naturalmente disponibili ad accogliere i vostri suggerimenti, è quella di crearvi delle iniziative che vi mettano insieme su tavoli specifici, su argomenti specifici per confrontarvi, però naturalmente anche su questo noi siamo disponibili ad organizzare quello che ritenete, insomma, per cui se avete dei suggerimenti benvenga. Questo però sarebbero proprio il percorso, naturalmente allora si facevano in presenza, si spera di ricominciare a farli in presenza, però tutto sommato vedo tutte queste belle facce di persone notte, meno notte, però alcune insomma che saluto tutti e insomma io credo che questo sia un modo già buono per cominciare a parlarci però su cose specifiche, però ripeto, ci farebbe molto piacere ricevere i vostri suggerimenti. Grazie, non mancherò. Nel frattempo qualcuno è rimasto sugli altri Google Meet perché ci sono stati alcuni problemi tecnici nei trasferimenti, però so che alcuni miei colleghi hanno fatto, diciamo, da broadcast, quindi attraverso il loro computer trasmettevano anche su Meet, ci dispiace se insomma qualcuno non è riuscito ad accedere, magari condividiamo quest'ultimo pezzo di video finale di Valentina con tutti gli iscritti, così abbiamo il quadro completo. Grazie allora. A posto allora. Grazie mille a voi. Grazie a tutti. A presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ciao.